Ciao a tutti e bentornati nel mio canale, oggi video recensione di un libro che in realtà ho letto nel 2019 però siccome ho finito di leggerlo proprio nei primi giorni di gennaio 2020 ho aspettato un attimo a fare la recensione perché avevo tantissimi altri video da registrare comunque sto parlando di Generazione Perduta di Vera Brittain di questo libro ve ne avevo già un pochino parlato nel video tag 30 mesi di libri solo che in quel momento ancora non lo avevo letto perché avevo risposto alla domanda facendovi vedere questo libro ma ho specificato che era un libro che ancora dovevo leggere finalmente l'ho finito perché comunque è un libro abbastanza spesso, sono più di 600 pagine e quindi ci ho messo un pochino di più è un libro che mi è piaciuto tantissimo, vi dico subito che non è un romanzo è la storia di Vera Brittain che è l'autrice e di tutto il suo cammino evolutivo il suo cammino dei ricordi, la sua esperienza durante la prima guerra mondiale è un libro che quando comincia vi fa subito capire qual era la sua visione della guerra appena questa è scoppiata perché lei l'ha vista come un'interruzione ai suoi sogni e ai suoi progetti quindi un po' una scocciatura, una cosa che le dava proprio fastidio per questo motivo poi piano piano quando comincia a entrare nel vivo, a vivere comunque delle esperienze in prima persona e soprattutto comincia a perdere le persone care non è uno spoiler perché voi lo leggete già in quarta di copertina questo e allora ha comunque tutta una visione diversa della guerra inoltre si arruola come infermiera volontaria quindi lì vede veramente delle situazioni pesanti vive delle forti emozioni e capisce quello che davvero è la guerra quello che di questo libro mi ha colpita tantissimo è la delicatezza con cui lei riesce a parlare di questi temi così forti e così crudi perché comunque la guerra è anche qualcosa di molto crudo lei racconta tutto quello che vedeva, tutte le esperienze che ha vissuto però riesce a farlo in un modo abbastanza delicato e quindi questo è un aspetto che mi è piaciuto molto del libro altra cosa che mi è piaciuta è che finalmente sono riuscita a trovare un libro che parli di guerra e che ne abbia una visione femminile quindi un punto di vista femminile perché ci sono tantissimi libri sull'argomento però molto spesso gli autori sono uomini e quindi voi avete un punto di vista maschile che è molto diverso da quello femminile perché quando si parla di guerra secondo me gli uomini e le donne hanno due visioni diverse e io ho apprezzato molto poter leggere anche questo tipo di punto di vista è un libro comunque che vi consiglio se vi piace il genere devo dire che l'ho trovato abbastanza scorrevole ma in alcuni punti ho fatto un po' più fatica perché ci sono dei punti che sono molto descrittivi e quindi per me sono risultati più difficoltosi e più lenti semplicemente perché io non amo le lunghe descrizioni non mi piacciono i libri troppo descrittivi che si perdono troppo in descrizioni molto minuziose e dettagliate e in questo libro ci sono dei punti che sono un pochino così però sono solo dei punti quindi per fortuna poi sono riuscita ad andare avanti perché il libro poi si riprende e ritorna abbastanza scorrevole quindi diciamo che alterna dei punti un pochino più lenti a punti un pochino più scorrevoli e un pochino più veloci anche da leggere comunque è un libro che in generale ho apprezzato moltissimo per il tipo di tema trattato sicuramente non è sempre facile la lettura perché ci sono dei punti in cui lei descrive il dolore della perdita il dolore della guerra, i sogni che comunque sono stati infranti a causa della guerra quindi insomma è un libro pesantino dal punto di vista proprio emotivo quindi se volete leggerlo tenete presente che il tema che lei tratta e le cose che racconta sono cose che sono realmente avvenute e comunque si tratta di situazioni di guerra però è un libro che io ho apprezzato veramente molto inoltre io sono stata anche nel cimitero di guerra in cui è sepolto il fratello di Vera Bretten e sulla cui tomba sono sparse le ceneri di Vera dell'autrice io sono andata a vedere questo cimitero che si trova sull'altopiano di Asiago poi ho intenzione di fare un video comunque sui luoghi della guerra che io ho visitato perché ne ho visti veramente tanti ho visto tanti cimiteri di guerra ho visto delle località particolari che sono famose perché è avvenuto qualcosa di particolare durante la guerra quello più famoso forse è la Normandia perché sono andata a vedere le spiagge dello sbarco in Normandia che è sicuramente quello più famoso però ho visto anche delle località che magari sono un pochino meno conosciute semplicemente perché magari non sono state riportate sui libri di storia più classici ma sono riportate solo in libri un pochino più specifici comunque insomma più avanti poi farò questo video comunque tornando al libro devo dire che assolutamente è stato apprezzato ve lo consiglio vi lascio giù in infobox il link per acquistarlo su Amazon qualora vi interessasse e vi dico che hanno fatto anche il film il film l'ho visto l'ho visto prima di leggere il libro tra l'altro mi è piaciuto molto anche il film ovviamente nel libro ci sono più dettagli ci sono più descrizioni ci sono tante cose che nel film non vedete ma questo è normale perché non si può fare un film che sia esattamente dettagliato quanto un libro perché il film deve avere anche una durata abbastanza breve non possono fare un film di 12 ore a meno che non facciano una serie tv allora è un'altra cosa però insomma è comunque un film apprezzabile secondo me quindi anche questo io ve lo consiglio non so se sia disponibile anche su Netflix perché sinceramente non ho guardato non l'ho cercato però credo che sia abbastanza reperibile anche il film comunque ragazzi io mi fermo qui altrimenti vado avanti troppo a lungo fatemi sapere se avete letto questo libro io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto mettete un like al video se vi è piaciuto io vi mando un bacio enorme